ciao a tutti bentornati o benvenuti sul mio canale oggi inauguro nuovo anno con il video sui top flop low cost del periodo parto da dei prodotti che vi avevo mostrato qualche tempo fa in un video appunto sulle mie scoperte e i miei acquisti low cost e vi parlo di questo olio detergente viso rigenerante di delidea è un olio che contiene mirtillo e fior di lotto fermentato ha una funzione riequilibrante io questo lo utilizzo alla mattina per andare proprio a detergere il viso è un olio che non sto utilizzando per struccarmi anche perché nasce come olio detergente non come olio struccante mi lascia la pelle morbidissima non risulta unto sul viso non fa patina e lo sto utilizzando con molta soddisfazione perché appunto è delicato e mi lascia la pelle liscissima e morbida quindi questo è assolutamente un promosso del periodo poi un altro prodotto che ho terminato tra l'altro e che ricomprerò perché per me è molto valido è questo struccante occhi ultra delicato di venus questo non contiene profumo è un prodotto che strucca molto bene gli occhi senza andarli ad arrossare o a infiammarli io gli occhi particolarmente sensibili però come sempre tutto molto soggettivo su di me questo strucca molto bene senza andare a creare problemi e quindi è un prodotto che per me è promosso e che andrò a ricomprare a breve perché adesso sto utilizzando un acqua micellare ma preferisco questo poi un prodotto che invece non vi ho ancora mostrato perché l'ho trovato in una box che mi è arrivata di recente è questo gel doccia di joie questo è un gel doccia stimolante idratante che contiene lumifenoli e zenzero è un flacone da 400 ml ha una texture gelatinosa è più consistente dei soliti gel doccia che utilizzo però un po strano perché proprio gelatinoso e mi piace sul corpo mi dà una bella sensazione di freschezza è un gel doccia che pulisce bene la pelle senza andarla ad aggredire contiene il 95 per cento di ingredienti di origine naturale e ha una formula biodegradabile questo è stata una bella scoperta non lo conoscevo non ho mai provato gel doccia di questo brand ed è un prodotto che è indicato per tutte le pelli anche quelle più sensibili e anche per i bambini dai tre anni in su anche una buona profumazione si sente lo zenzero però rimane abbastanza soft come profumo e quindi anche questo è assolutamente un sì poi un altro prodotto che ho acquistato di recente al dm è questo shampoo secco di balea in limited edition purple d'aglia questo ha una profumazione che mi piace tantissimo è uno shampoo secco che apprezzo molto di solito gli shampoo secco di balea mi piacciono sempre e anche questo è molto valido dona una bella freschezza ai capelli fa temporeggiare il solito giorno prima di fare lo shampoo e dona anche un pochino di volume non lascia residui e quindi anche questo è promosso i shampoo secco di balea sono sempre molto validi secondo me poi cambiano le profumazioni però la formula pneumale è sempre la stessa poi un prodotto che sto per terminare è questo olio gel struccante con vitamina c di cleanians contiene anche un complesso agli alfa idrossi acidi questo è indicato anche per il trucco waterproof non lascia residui grassi pelle morbida idratata luminosa confermo tutto è uno struccante con cui mi sto trovando molto bene lo utilizzo solitamente prima di andare a fare la detersione schiumogena è un gel bello denso che va applicato su pelle asciutta va massaggiato sul viso si trasforma in un olio e poi andandolo ad emulsionare con acqua diventa lattiginoso e io lo vado poi a rimuovere con un pannetto strucca bene sia viso che occhi io gli occhi dipende o li strucco con questo oppure li strucco con lo struccante che vi ho mostrato prima o comunque con un'acqua micellare questo è un prodotto molto molto valido con cui mi sto trovando veramente benissimo ha una profumazione di agrumi abbastanza importante è la stessa profumazione che anche il gel detergente della stessa linea che vi avevo recensito che per me era super promosso anche questo è davvero un ottimo struccante ed è molto pratico e comodo da utilizzare poi uno shampoo anti giallo che sto utilizzando è questo di l'oreal elvive il parcol shampoo che va a neutralizzare le sfumature gialle e arancioni indicato per capelli schiariti biondi decolorati e grigi mi sta piacendo perché fa quello che deve fare è uno shampoo che mi va a seccare un pochino i capelli a differenza di quello di balea che invece non me li secca questo un pochino me li va a seccare però niente di eclatante dopo vado poi con il solito balsamo con la maschera per andare ad ammorbidire il tutto è consigliabile utilizzarlo con dei guanti perché un pochino macchia la pelle io se non li ho disponibili lo utilizzo anche senza e poi alla fine andando a lavare le mani più volte va via è un prodotto che è di facile reperibilità fa bene il suo lavoro quindi ve lo consiglio se avete appunto bisogno di un anti giallo io di solito lo utilizzo ogni dieci giorni non di più e mi sto trovando bene mi piace di più quello di balea però se non avete un dm a disposizione anche questo vi dico fa un ottimo lavoro poi sempre tornando sul dm un altro prodotto promosso è questo peeling alla niacinamide e alfa idrossi acidi di balea questo è un prodotto che si può utilizzare in due modi o andandolo a risciacquare quindi si tiene in posa una decina di minuti e poi si va a risciacquare oppure si può tenere anche tutta la notte io lo utilizzo andandolo a risciacquare perché secondo me per tutta la notte sul mio tipo di pelle è troppo non contiene profumo si sente un pochino pizzicare però lascia la pelle molto luminosa si vede proprio che va a togliere quel grigiore dato dalle cellule morte e la lascia liscissima quindi questo è un prodotto che per me è promosso perché non mi ha creato problemi ed è un prodotto che funziona molto bene contiene aloe vera anche e pantenolo che comunque ha questa azione lenitiva questo si può utilizzare da una a tre volte alla settimana la mattina o la sera io di solito lo utilizzo solo alla sera e bastano una o due erogazioni di prodotto perché è un prodotto che è abbastanza liquido quindi si stende molto bene ne basta poco per coprire tutto il viso questo è indicato anche per collo e decolleté volendo io per adesso l'ho utilizzato solo sul viso poi un altro prodotto di balea poi passiamo ai bocciati è questa maschera per le mani sono dei guantini che praticamente vanno a fare un impacco idratante lasciano le mani morbidissime e liscissime proprio molto bella questa maschera funziona molto bene contiene curcuma e olio di mandorla mi è piaciuta tantissimo va lasciata a 15 20 minuti io l'ho lasciata anche mezz'oretta abbastanza siero all'interno e va proprio a rigenerare le mani mi è piaciuta tantissimo questa maschera per le mani in questi guantini poi hanno un altro promosso da farvi vedere mi stavo dimenticando di lui il de multitasker concealer di rimmel questo è un correttore ad alta coprenza che non risulta assolutamente a effetto mascherone quindi per occhiaie marcate occhiaie abbastanza scure questo è perfetto almeno per quanto mi riguarda io lo vado ad applicare solo in questa zona e ne metto pochissimo perché davvero ne basta poco è molto pigmentato poi lo vado a sfumare con una spugnetta o con un pennello e mi copre benissimo la zona senza andarmela a seccare non mi va nelle pieghette non risulta troppo asciutto è un correttore che si riesce a lavorare abbastanza bene anche sul viso se ho delle imperfezioni lo vado ad applicare e il risultato è veramente ottimo io ce l'ho nella colorazione 040 ivory questo si trova in grande distribuzione su amazon io l'avevo preso da tigota in offerta l'ho pagato poco più di 7 euro e sono 10 ml di prodotto questo per me è assolutamente un sì veramente un ottimo correttore low cost poi passando ai bocciati ne ho solo due allora uno è questo shampoo di ducre extra dolce extra delicato shampoo dermoprotettivo indicato per tutta la famiglia e per capelli delicati questo mi lava bene i capelli a parte che non ha un potere condizionante quindi mi lascia i capelli leggermente secchini già al lavaggio è un prodotto che con l'utilizzo continuativo mi va a seccare tantissimo i capelli adesso in particolare ho i capelli abbastanza secchi e questo me li va a seccare ancora di più anche lui ha una formula biodegradabile qualcuno lo terminerà anche perché è un flacone da 400 ml peccato perché vi dico lava bene i capelli risultato mi piace però me li fa proprio diventare molto molto secchi anche al lavaggio vi dico non è un granchè la sensazione devo subito andare a mettere una maschera un balsamo per districare il tutto quindi per me questo è un bocciato l'altro prodotto che boccio è questo my gloss spicy plumper di astra volumizzante labbra con peperoncino caffeine zenzero questo mi ha provocato un irritazione proprio qua sul labbro superiore mi ha arrossato e gonfiato tutta la zona è un prodotto che non posso utilizzare inizialmente l'ho utilizzato non mi aveva creato questo problema quindi probabilmente dopo è cambiato qualcosa non lo so avevo fatto anche lo scrub alle labbra e mi ha dato questo gonfiore questo problema l'ho riprovato ad utilizzare un'altra volta perché l'effetto volumizzante effettivamente ce l'ha però vi dico mi ha ricreato il problema e quindi è un prodotto che purtroppo su di me non va bene perché mi gonfia tutta questa zona questo tra l'altro l'avevo applicato prima di fare un get ready in quello sullo detente di chanel e già in quel video a inizio video si vede che è un pochino qua ho le labbra gonfie però poi avevo messo un pochino di aloe si era lenita la zona ma mi aveva dato proprio questa mega irritazione quindi è un prodotto che devo purtroppo bocciare basta io termino qui con il video spero di avervi tenuto come sempre un pochino di compagnia fatemi sapere se vi va quali sono i vostri top e flop low cost così ci sentiamo qui sotto nei commenti che mi fa sempre tanto piacere io vi mando un grande abbraccio buon anno a tutti e se vi va ci vediamo alla prossima ciao ciao